Dias si muove a livello nazionale, sta molto attenta appunto al mercato della distribuzione e sta molto attenta a selezionare i distributori che devono avere determinate caratteristiche per poter essere distributore di IAS e ha trovato in MT un ottimo punto di riferimento per la distribuzione dei propri prodotti. Diciamo che in questi anni di collaborazione ci sono sempre stati dei momenti di crescita e pensiamo che comunque il futuro ci possa riservare sicuramente molte più possibilità di collaborazione a livello di prodotti. Diciamo che questa serata è una serata molto particolare, è una serata dove vede molta partecipazione degli installatori e questo conferma appunto che la scelta di Dias nella distributore MT è stata azzeccata. Alla fine la partecipazione, penso che la risposta migliore sia la partecipazione degli operatori del mercato quindi direi che è un'ottima occasione per dare appunto supporto ed essere presenti a rafforzare il rapporto che c'è con MT. Questo momento storico per noi è importante sempre di più avere collaborazioni sul territorio forti in questo momento abbiamo trovato in MT una collaborazione fortissima ormai da 4 anni che lavoriamo insieme da due anni sono ufficialmente distributori ufficiali Gold, Partner, Samsung e in questo momento storico per noi è ancora più importante uno perché noi stiamo avendo un periodo di diciamo trapasso tra la vecchia società Samsung Techwin e la nuova società Nuo Techwin e cerchiamo sempre rapporti più forti con distributori locali che ci aiutano nella nostra proposta. MT per noi è importante, ripeto da 4 anni che lavora con enorme successo e troviamo in lui un distributore affidabile un distributore che dà quel valore aggiunto che spesso si dice a parole e poi in realtà molti si spacciano per distributore valore aggiunto in realtà sono dei box mover o poco di più e siamo molto contenti di questa location del pubblico che c'è veramente alto e siamo contenti. Che dire, la politica commerciale di Inim è una politica commerciale che si basa ovviamente sulla qualificazione dei propri distributori la qualificazione del distributore è fondamentale per avere successo anche perché il mercato dell'antintrusione e della rivelazione dei fumi ultimamente è un mercato che si è elevato in una maniera esponenziale la specializzazione è assolutamente necessaria per poter avere successo in questo mercato una cosa fondamentale ed è un must di Inim è quella di ricercare attraverso il proprio distributore uno sviluppo ovviamente sul territorio ma anche forse più ampio aspetto soprattutto magari con la gamma incendio per cui aiutare anche il distributore a inserirsi nei capitolati applicare quelle giuste normative che servono per sviluppare sistemi di rivelazione dei fumi e ovviamente anche con l'integrazione per quanto riguarda la parte di antintrusione e questo è un lavoro che viene bene se ambedue le componenti la Inim e il distributore sono in sintonia e sono dei professionisti dico che da parte ovviamente di Inim la qualità dei prodotti e la qualità professionale dal mio punto di vista ovviamente non si discute e non si discute neanche sulla scelta dei distributori per esempio questa sera siamo qui ospiti dell'MT in una serata fantastica il clima è meraviglioso la location è meravigliosa altrettanto e tutto questo perché accade? è perché una sintonia tra Inim e la MT distribuzione e la professionalità di ambedue le figure hanno realizzato questo se uno dei due non fosse stato all'altezza molto ovviamente saremmo in un chiosco e invece in questo caso siamo in una magnifica villa abbiamo mangiato divinamente e questo è solamente frutto delle due sinergie Venitem è un'azienda che è nata nel 97 noi ci occupiamo di sicurezza di sirene produciamo sirene alimentatori schede relè negli anni ci siamo distinti per la qualità e la bellezza dei nostri prodotti e abbiamo puntato a una clientela selezionata di distributori che potessero esprimere al massimo quelle che erano le potenzialità dei nostri prodotti e devo dire che su Verona abbiamo trovato con la MT con il signor Tiziano Mantella una collaborazione molto interessante che dura ormai da da circa due anni con dei risultati ottimi siamo molto contenti ci ha ospitato in una location bellissima dove si mangia bene si beve bene e dove si ha il piacere di parlare con dei professionisti della sicure che poi sono i clienti che fanno riferimento all' MT e i clienti che fanno anche la differenza sui prodotti e quindi scelgono un marchio come Venetem che si dormite e quindi rischia di montaggio ci sono tutti e quindi che sono stati